Bella a tutti ragazzi, sono io Mirko della Degrado Family e oggi vediamo insieme la decklist come promesso di OP03 del mazzo di Doflamingo che è quello che ho portato al Regional di Bologna. I risultati già lo sapete, adesso commentiamo meglio, ho fatto 3-6, un risultato mica tanto buono, però vabbè due partite le ho perse proprio di un soffio. C'è uno di un'axata avversaria contro Big Mom e l'altra perché veramente mi ha girato malissimo, però no per un counter 2000, una cosa del genere, quindi vabbè ma non è un problema. Siamo qui per il mazzo, allora gioco 4 per 1, ovviamente on play guardi le prime 5 e le metti nell'ordine che vuoi, davanti o in fondo al mazzo, ottimo per iniziare. Poi due low blocker, questi qui ero indeciso se giocarli o no ma alla fine ho deciso di giocarli perché comunque un blocker 1, magari nel turno in cui giochi Doflamingo se sei 10 donne non è male. Poi Doflamingo, quello blocker costo 3, stesso effetto di perone, in più è anche un blocker, ma non mi soffermo troppo sulle carte perché penso che le conosciate ormai. Diciamo che questa è un po' la core, questo qua, poi 4 Boa Hancock, Boa Hancock è veramente utile, in questo formato io vi consiglio più che tenerla come blocker perché comunque la gente ha imparato come contrastarla e ve la targheterà sempre tra Jet Pistol, il Fulmine, quello di Big Mom, l'evento quello nuovo. Vi consiglio di attaccare, contro questo gli assegnate due donne, attacco di 7000, pescate anche uno, state da Dio. Ricordatevi però se la usate in questo modo, quando mettete in ordine le carte in cima che poi pescherete, cioè nel senso non incasinateli. Poi, questo qui intanto li levo. Poi, un'altra gimmick del mazzo interessante che ho voluto fare qua, è i quattro Kuma, li ho messi, insieme a quattro Pacifisti. Quindi, quattro Pacifisti, spostiamo un attimo qua. E in più ho voluto ripescare i due Sentomaro. Allora, questa mi ha fatto vincere un Mirror Match, questa combo qua e i Sentomaro sono ottimi contro Mirror Match, ok? Che non è molto presente, ma anche contro Barba Bianca è veramente ottimo. Infatti, il blu, questo qua, è abbastanza favorito, oddio, fino a un certo punto, in realtà, contro Barba Bianca. Perché, appunto, comunque, lui cala dei Colossi da 6, i Colossi da 6 attaccano, cioè possono infliggere danno a Barba Bianca o comunque minacciarlo senza aver bisogno di ulteriori donne di supporto. Quindi questo qui è veramente utile, soprattutto quando iniziate per primi, magari quando avete tre donne, invece che attivare le fra di Doflamingo, se non avete pescato perone e non sapete che carte avete, invece che farlo a vuoto, sprecando potenzialmente il turno, attaccate di 5 e poi usate, giocate questo. Il turno dopo potrete attivare questo effetto pagando 3, in più vi rimarranno anche due donne liberi. Non potrete comunque attivare l'effetto, però magari se avete una perona in mano, è così. Un'altra cosa che volevo dirvi, i Blocker, questi qui di Doflamingo, questo qui è un ottimo start, se invece iniziate secondo. Secondi. Perché comunque potete allegare un don a questo, attaccate di 6.000, poi dopo calare quello. Non è male, anche perché il turno dopo avete 5 donne e quindi in quel caso lì potete attivare l'effetto, poi ne avete altri due in più. Quindi comunque è interessante che questa cosa qui, se volete provarla, io ve la consiglio. Mi sono trovato davvero bene, perché se in Tomaro comunque se non ve lo levano, evoca il pacifista e diventa problematica per l'avversario. E continuate a minacciare di brutto. Poi ha molti Blocker questo mazzo, quindi un po' più di potere offensivo secondo me ci vuole. Poi passiamo a Imoria, giocabili benissimo di Doflamingo. Quando è on play potete riprendere un Seven Warlord dal cimitero, target preferito Mioc. Se vi mettete in fila le mani ricordatevi di mettere in quest'ordine qua. Ovvero, questa è la carta che pescate, poi dopo evocate questa. Però se fate così ricordate di scartarla, perché così potete counterare efficacemente usando comunque un counter 2000. In più il turno dopo con l'effetto di Doflamingo giocate lui e potete riprendere questo. Quindi avete counterato un attacco in più che altrimenti non avreste potuto counterare. Anche se basterebbe un counter 1000, cioè ricordatevi di scartarlo. Qui è molto importante usando Doflamingo pensare molto e riflettere prima di scartare le carte. Ma questo penso che ormai lo sappiate. Poi 4 Alvida come counter 2000 e 2 Kaia. Io le ho giocate in queste proporzioni qua. Si può anche pensare di fare così. 3 Kaia, 3 Alvida. Kaia comunque può capitare benissimo di giocarla. Anche perché le due carte che pescherete, se tutto è andato bene dovreste conoscerle. Quindi comunque riuscite a farvi una mano. Magari avete due carte vuote che non sapete cosa farvene. Discartate con Kaia e poi pescate quello che vi serve. Poi un altro target aggressivo dell'effetto di Doflamingo è Moria. Anche questo è un 6000. Quindi se avete questi più dei pacifisti comunque potete minacciare molto bene il rosso. Poi di grossone il boss monster è Tremiok. Non ne gioco 4 perché secondo me è un brick. Tanto con Grazia Perona o comunque i Doflamingo che vi fanno mettere le carte come volete in cima al mazzo. In più magari potete pescare con Kaia e robe di questo tipo. Li vedete. Meglio il prima possibile. Soprattutto contro giallo. Appena loro hanno il turno quello da 7 donne. E vi calano la Big Mom. Quella che vi fa scegliere tra... Tra togliermi una vita o darne una all'avversario. Appena fate quella scelta. Che io vi consiglio di toglierla voi comunque. Anche perché il giallo gioca molti trigger. Quindi aumentagli di uno la vita. Rischiate che triggeri una carta. Che poi ribalti la partita. Più che effettivamente togliervi una vita. Piuttosto io me la farei togliere. Infatti contro Doflamingo ho avuto dei problemi. Ho sfidato tre gialli. Uno ho vinto. Due ho perso. Il problema è che quando ti giocano la mamma da 10 è un bel casino. Però per il resto... Appena lui gioca quella da 7. Il turno dopo voi dovete giocare a questa. E mettergliela in fondo al mazzo. Questa è la giocata che vi salva contro giallo. Fondamentale ricordatevelo. Poi la chicca del mazzo. Sapete che io ho sempre carte un po' strane. Le ciotole. Come le chiamo io. Sanji Pilaf. Questa carta qui praticamente ha il trigger. Che si attiva gratuitamente. E costa 3. E pescate 2. È molto forte. Allora se la triggerate dalle vite. Vi dà un plus gigantesco. E comunque usare 3 Dawn. Magari invece che usare l'effetto di Doflamingo. Perché invece che andare al buio con il suo effetto. Usate Sanji Pilaf. È veramente ottima. Anche perché le due carte che pescate. Potreste conoscerle. Quindi a me è capitata una partita. Che mi sono salvato grazie a questa. Perché sapevo che c'erano due counter 2000. Nelle prime due carte. Quindi ho usato questa. Ho pescato quei due counter 2000. Che poi mi hanno salvato successivamente. Poi l'altro evento che gioco. Non gioco i Love Beam. In questo decklist. Perché ci sono queste due qua. Gioco 3000 World. Questa carta qui è veramente forte. Praticamente è un removal. Mette in fondo al mazzo un 5 o meno. E poi anche il trigger. Che ha la stessa cosa. Ma un 3 o meno. Questo qui è ottimo. Contro Barba Bianca. Per levare di mezzi Marco. E contro giallo. Per levare i per ospero. Così non si attiva l'effetto anche io. Oppure anche i Cracker. Ma è più consigliato per i per ospero. E comunque è il rosso in generale. Contro i Marco. Quelli o Blocker o da 5. Volendo potreste pensare magari di giocarne 4. Levando un Sanji Pilaf. Anche se io vi consiglio. Piuttosto di levare un Moria Vanilla. Invece di giocare uno di questi. Potete fare 4 così. Non è male. Anche perché comunque. Avendo i Pacifisti. Sentomaru. Robi di questo tipo. Potete permettervi di avere un 6.000 in meno. Anche se comunque. È veramente un'ottima giocata. Giocare subito questo Moria qua. E per il resto. Sì queste qua sono facoltative. Se non volete giocarle. Giocate Love Beam. Però al loro posto. Perché. Allora io non gioco Love Beam. Perché comunque avendo questa carta. Ho sempre molte carte in mano. E rischio di avere un counter 4.000. Però senza il potere di pescare. Infatti come potete vedere. Io non ho eventi counter. Perché gli unici eventi che gioco. Sono questi due qua. Ma avendo tanti counter 2.000 in mano. E tanti blocker. In realtà non vi servono più di tanto. Una cosa che vi consiglio. È di lasciare magari. Due Dawn. Due Dawn aperti. Lo stesso. In modo da. Creare confusione nell'avversario. Va bene ragazzi. Il video era questo. Questo che è il mazzo che ho portato. Performa davvero bene. Purtroppo vabbè. Il risultato non è stato uno degli ottimi. Uno dei più ottimali. Perché ho fatto 3-6. Però comunque era un torneo abbastanza impegnativo. E probabilmente non è colpa del mazzo. Ma è colpa delle mie giocate. Che non sono state proprio al top. Anche se appunto comunque. Contro Rosso. Se la gestisce veramente bene. Contro Barba Bianca. Attaccate sempre diretto. Gli togliete i Marco. È veramente ottimo. Anche perché nel turno in cui lui avrà 5 donne. Giocherà il Marco da 5. Voi glielo togliete subito con questo. E state da Dio. Perché voi sarete sempre avanti di pezzi. Grazie all'effetto di Doflamingo. E niente ragazzi. Noi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando tutti i link in descrizione. E ciao a tutti.